Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il raccordo Siena-Firenze è chiuso in direzione Siena a Colle Valdelsa a causa del ritrovamento di ordigni esplosivi. Il traffico è bloccato. Per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord. Ci spostiamo sulla A1 dove in direzione Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI per traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.